Crediamo che fra i valori di un'amministrazione ci sia proprio l'attenzione nei confronti delle persone che hanno più difficoltà. Andiamo dai nostri anziani, specie quelli non autosufficienti, al mondo della disabilità, che è un mondo diffuso dai disabili gravi a tutte le altre figure, alle dipendenze patologiche, un settore che è cresciuto in ultimi anni per esempio col problema del gioco, che ha visto un'attenzione particolare, e a tutta la parte socio-sanitaria, che è quel confine che sta fra sociale e sanitario, che riguarda le strutture residenziali o semi-residenziali che permettono alle famiglie di avere un accompagnamento nelle fasi più complesse dei vari problemi. Noi abbiamo garantito in questi anni, ogni anno, una media di 85 milioni di euro dedicati al sociale, che ci hanno permesso di sostenere tutte le politiche di maggior valore, come dicevo prima, sulla disabilità, sulla non autosufficienza, e una fetta ancora più significativa, a quasi 200 milioni di euro all'anno, per il socio-sanitario. Un socio-sanitario che, senza fare tanto rumore, è accresciuto in termini di posti residenziali e semi-residenziali di quasi 1.800 posti in questi quattro anni. Il 2020 sta continuando sulla stessa tendenza, perché già sono pronte strutture che possono convenzionare quasi 400 posti letto o posti in struttura, con una, quindi, ascesa costante in termini di risposta. Un bisogno crescente di una popolazione sempre più anziana, ma una società che, se in grado di difendere, sostenere e contribuire in termini di servizio alla propria comunità sulla parte che ha più bisogno, permette a tutti quanti di vivere meglio.